La commovente storia di Federico Cetrullo, il 23enne pescarese immobilizzato a letto dopo un grave incidente automobilistico in cui rimasto coinvolto lo scorso 25 agosto, ha già iniziato a smuovere le coscienze di molti. In seguito all'appello lanciato nei giorni scorsi dal padre, attualmente disoccupato, diverse persone hanno provveduto ad effettuare le prime donazioni. Fino ad oggi, infatti, sono stati raccolti oltre 10.000 euro, ma per permettere al ragazzo di potersi sottoporre al delicato intervento chirurgico, unica speranza per Federico per tornare a condurre una vita normale, per tornare a camminare, occorrono circa 100.000 euro. Così oggi, alla raccolta fondi, ha deciso di contribuire anche il cabarettista Vincenzo Livieri, con un evento patrocinato dal Comune di Pescara. Abbiamo chiesto la collaborazione del Comune, perché il palazzetto sport è comunale, ed hanno una serie di altre cose, tipo il palco, l'organizzazione, la possibilità di pubblicizzare questo evento, per abbattere i costi in modo da partire da zero. Cioè, nel senso, non avere i costi e quindi tutti gli incassi devolverli direttamente a Federico. Perché è un ragazzo che mi ha colpito molto, anche da un punto di vista umano, ci ho parlato, ho parlato con lui, sono in contatto anche con il padre. In questo momento loro sono a Milano e lui sta sostenendo delle altre operazioni e per cui serve questa cifra servirà per portare Federico in Svizzera, a Zurigo, per sostenere una sorta di operazione e riabilitazione che lo porterà a riavere l'uso delle braccia e delle gambe. Ringraziamo naturalmente Vincenzo Livieri, l'artista che molto generosamente si è speso, con l'idea che appunto l'evento del 27 febbraio possa essere l'inizio di un percorso più ampio, perché indubbiamente c'è bisogno di stringersi attorno a Federico e sovente c'è bisogno di stringersi attorno al bisogno che cresce. Io, ma anche gli altri assessori, insieme a Vincenzo, crediamo molto in questo evento e nella riuscita di questo evento, che sicuramente sarà un successo e speriamo che possa essere un grandissimo aiuto per Federico. La finalità di questa conferenza stampa è quella di non solo pubblicizzare l'evento del 27, ma soprattutto di fare un appello a tutte le persone, in questo caso di buona volontà, che volessero collaborare per fare proprio non solo un evento, ma un calendario di eventi, una serie di eventi, dove naturalmente quello clou ci sarà il 27, ma non disdegniamo quindi, non so, altre situazioni, non so, partite di calcio, benefiche oppure, che non so, qualsiasi altra cosa.